È stato prorogato di 30 giorni e quinti fino al prossimo 24 giugno il termine per presentare le candidature al calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico della regione siciliana per gli anni 2024 e 2025. Questa decisione è stata presa dall'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo mediante un tegreto. Tale provvedimento è stato adottato in risposta alle richieste pervenute da molte istituzioni che hanno manifestato la necessità di avere più tempo a disposizione per la preparazione delle domande. L'avviso pubblico è rivolto ad enti pubblici, enti di culto, teatri e lirici regionali, fondazioni e organizzazioni non governative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e cooperative senza fini di lucro con riconosciute esperienze e capacità tecnico-finanziaria, nonché organizzatori di eventi sul territorio regionale che abbiano dimostrato un valore e una capacità di intrattenimento turistico comprovati. L'obiettivo è quello di arricchire l'offerta turistica della regione accogliendo manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi di iniziativa pubblica e privata, per i quali l'assessorato fornirà il patrocino gratuito e si impegnerà nella loro promozione. Il decreto di proroga è stato pubblicato sul sito istituzionale della regione siciliana.